Siamo con Massimo Falappa, country manager di New Mobile in Italia. Massimo, è venuto a trovarci in redazione perché recentemente, anzi da pochi giorni, il G3 ha toccato i primi negozi, è il vostro top di gamma, ma in realtà, ci raccontavi questo pomeriggio, New Mobile ha una gamma molto più ampia. Sì, ha una gamma che abbraccia il street price che va dai 50 fino ai 99 euro, per quella che è la gamma entry level, che è la gamma series A, poi abbiamo una gamma media che è la metal, che abbraccia il prodotto che va dai 99 ai 149 euro e poi abbiamo il top di gamma che è la serie G, che va dai 149 fino ai 269 euro al pubblico. Senti, ce lo racconti un attimo questo G3? È un prodotto che sicuramente ha un effetto feeling molto importante perché ha una scocca in vetro, ha un display con un effetto straordinario dal punto di vista della risoluzione, straveloce perché è un octa-core Helio P25 da 2.39 GHz, dotato di una RAM da 4 GB, una ROM da 64 GB, una batteria che permette di avere comunque un utilizzo per almeno 24 ore di 4.000 mAh, una fotocamera importante frontale da 13 megapixel e doppia fotocamera da 13 megapixel più 5 megapixel. Un'altra cosa molto importante è il fatto che ha riconoscimento facciale e il fast charger. Tra l'altro lo vedrete prestissimo perché lo stiamo provando, quindi sicuramente ha una ricchissima videorecensione. Senti, quali sono i canali su cui vendete i vostri prodotti? In questo momento abbiamo tre distributori, la Consumer SPA per quello che è il canale GDO e GDS, la SciET per quello che riguarda il canale Telecom Specialist e la Brevia SPA, la Comunità SPA, per quello che riguarda il canale IT. Ok, quindi insomma siete veramente dappertutto. Mi raccontavi un progetto molto bello che toccherà i Telecom Specialist. Sì, con SciET abbiamo pensato di creare un progetto che possa permettere al mercato di trovare i prodotti ovunque e quindi di premiare il Telecom Specialist che esposa il progetto New Mobile, che verrà quindi chiamato New Mobile Point. Quindi inizieremo con circa 100 New Mobile Point a livello nazionale e questo progetto poi continuerà fino ad arrivare ad una numerica non precisa, ma attorno ai 500 point a livello nazionale. Quindi lì troveremo ovviamente i vostri telefoni, ma anche una serie di servizi e di cose accessorie a cui i vostri consumatori avranno accesso. Assolutamente sì, un servizio di assistenza a 360 gradi, ma soprattutto l'utente potrà avere tutte le informazioni riguardo al prodotto e trovare tutti gli accessori per i prodotti New Mobile. Massimo Falappa, grazie, country manager di New Mobile in Italia, un'infornata di nuovi modelli, in bocca al lupo e buon lavoro. Crepi e grazie a voi.